Buongiorno a tutti, sono Simone Vinci. Le ruote sono l'unico componente a diretto contatto sull'asfalto e questo può condizionare la bellezza estetica e le prestazioni della vostra vettura. Per questo BMW ha dedicato un'intera gamma di ruote M Performance che rendono la vettura sportiva, sicura e piacevole da guidare. Per ogni modello e per ogni dimensione i cerchi sono unici nel loro styling a partire dal raggio 18 per serie 1, serie 2, al raggio 19 per serie 3, serie 4, raggio 20, serie 5, serie 6 e infine il raggio 21 per l'intera gamma X. Venite a scoprire tutti i vantaggi della gamma M Performance. Ne resterete affascinati, vi aspetto, ciao!